La nostra regione è interessata da un campo di alta pressione con contributo subtropicale in curta, una configurazione barica poco consona al periodo in corso che determina condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato con temperature ben superiori alla media stagionale. Le grandi perturbazioni atlantiche continuano ad interessare i settori centro-settendrionali dell'Europa, negando ogni possibilità di avere precipitazioni diffuse sulla nostra penisola. Una situazione che, se dovesse persistere anche nelle prossime settimane, andrebbe a determinare condizioni di criticità a livello idrico, poiché negli ultimi mesi è piovuto davvero poco sul nostro territorio e per di più manca un consistente manto nevoso sulle nostre montagne, una risorsa questa essenziale per le falde acquifere durante i mesi estivi. Ma ecco in dettaglio il tempo previsto per questo fine settimana. Sabato 19 febbraio cielo irregolarmente nuvoloso ovunque, con ampio soleggiamento, temperature massime in aumento con accentuata escursione termica giornaliera, venti deboli meridionali e mare poco mosso, domenica 20 condizioni di cielo da poco nuvoloso a nuvoloso con possibilità di qualche piovasco in prossimità della dorsale appenninica, temperature in lieve diminuzione ma con valori massimi ancora al di sopra della media del periodo, venti deboli sud occidentali in graduale rinforzo dalla serata, mare da poco mosso a mosso. Lunedì 21 il campo di alta pressione subirà un cedimento a causa dell'affonto di una modesta depressione di origine nord-europea. Sulla nostra regione avremo un vistoso calo delle temperature con associate precipitazioni di debole e moderata intensità, nevose in montagna al di sopra dei 1400-1500 metri, instabilità che proseguirà anche nella giornata di martedì 22 febbraio, mentre a partire da mercoledì è previsto una nuova espansione dell'alta pressione che andrà a ripristinare condizioni di stabilità con temperature in lieve aumento, pressa poco temperature in linea con la media stagionale. Una situazione questa che potrebbe durare almeno fino a tutta la prossima settimana, ma per maggiori dettagli invito come sempre degli spettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteogiuliacci.it e sul gruppo Facebook Meteo Cilento. Termino qui un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.